Santissimo di Gesù, fonte di ogni bene, ti adoro, ti ringrazio, ti bendito, ripetendo i miei peccati, ti presento questo povero di cuore, tre di ormide, paziente, puro e in tutto, con fuori e in sé del tuo cuore, sollevati i miei peccati, non sollevati le nazioni, conoscenze e sanzanze, la popolazione dell'anima, sofforso nelle mie città, la popolazione dell'anima, la popolazione dell'anima, la popolazione dell'anima, e la popolazione dell'anima, salvo il cuore di Gesù, figlio e sanzanze, E' stato qui, in verità, grazie diciamo a te, Gesù, Resta con noi, non ci lasciare, sei vero amico, solo tu. Grazie diciamo a te, Gesù, Resta con noi, non ci lasciare, sei vero amico, solo tu. Signore Gesù Cristo, che nel capire sacramento dell'Eucaristia, ci hai lasciato in modale della tua Pasqua, a che adoriamo con viva fede, il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre noi benefici della redenzione, tu che vivrai nei secoli dei secoli. Amen. Io sono il pane della vita, i vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo, se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Ripetiamo insieme, Signore è mio, è Dio mio, Signore è mio, è Dio mio, Tu sei uscito dal Padre e sei venuto nel mondo, Signore è mio, è Dio mio, Tu ci fai conoscere il Padre, Signore è mio, Dio mio, Tu sei la porta per entrare nella casa del Padre, Signore è mio, è Dio mio, Tu sei la via che conduce al Padre, Signore è mio, è Dio mio, Tu sei il buon pastore che dà la vita per le pecore, Signore è mio, è Dio mio, Signore è 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 mio, Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, Benedetto San Giuseppe e Suo Castissimo Sposo, Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.